Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Gli ospiti di oggi sono un prete, un seminarista che studiano a Roma e fanno parte di quel grandissimo gruppo che ha riempito l'aula Paolo VI. Questo lunedì erano circa 5.000 che hanno dialogato con Papa Francesco facendogli, pensate un po', 205 domande. Il Papa però ha risposto soltanto a 10. Ma vi presento subito Don Salvatore Teresi, benvenuto, e Giacomo Gliottone. E allora, intanto questa curiosità, insomma, il Papa ha dialogato con voi a lungo ma voi avevate preparato 205 domande. Come erano venute fuori queste domande? Bene, nei giorni precedenti c'era stato chiesto di inviarle a un tale indirizzo e poi sapevamo che lo staff avrebbe di fatto scelto per tema cercando di accorpare dei temi interessanti in modo da permettere a Papa Francesco. Ma l'avete fatto, come dire, per gruppo, per collegio, per università? No, ciascuno di noi, in privato, poteva scrivere la sua domanda. Uno di voi l'ha fatta la domanda? Io l'ho fatta. E che cosa hai chiesto? Io ho chiesto al Santo Padre, essendo un prete studente, quindi che non vive... Studi sacramentari a Roma. Studi sacramentari a Sant'Anselmo. Perché poi a Roma si viene, chiariamo pure questo passaggio, a Roma si viene, si può venire o per fare il seminario qui e non nella propria diocesi o regione, laddove non c'è in diocesi, oppure per lo studio, l'approfondimento, quindi come... Per specializzarsi. Il passaggio, la specializzazione. Esatto. Che ha due fasi, però. Ha due fasi, la licenza e poi l'eventuale dottorato di ricerca. Tu stai facendo la licenza. Sto finendo la licenza e inizierò a breve il dottorato. Quindi 205 domande, 10 sono state effettivamente poste a Papa Francesco, purtroppo però non abbiamo il video da mostrarvi. Allora, ascoltiamo però un altro incontro di Papa Francesco con seminaristi, novizi e novizie, in questo caso di qualche anno fa, dove ha toccato alcuni dei temi di cui ho parlato anche con voi. Nella formazione vostra ci sono i quattro pilastri fondamentali. Formazione spirituale, ossia la vita spirituale, la vita intellettuale, questo studiare per dar ragione, la vita apostolica, incominciare a andare a annunciare il Vangelo, e quarto la vita comunitaria, quattro. E per questo, per quest'ultima, è necessaria che la formazione sia in comunità, né in noviziato, né in giuniorato, né nei seminari. Ma io penso sempre questo. È meglio il peggio seminario che il niente seminario. Perché? Perché è necessaria questa vita comunitaria. Ricordate i quattro pilastri. Vita spirituale, vita intellettuale, vita apostolica e vita comunitaria. Questi quattro. Su questi quattro dovete edificare la vostra vocazione. E qui vorrei sottolineare l'importanza di questa vita comunitaria, nella relazione di amicizia e di fraternità che fanno parte integrante di questa formazione. Di questi quattro pilastri sostanzialmente ha parlato anche con voi. Diamo per scontato quello del pilastro intellettuale, perché state qui a studiare e insomma questo lo diamo per fatto. Però poi parla Papa Francesco, per esempio, della vita comunitaria. Com'è trovarsi in una comunità nuova che non è quella tua d'origine? Tu sei all'Almo Collegio Capranica e studi alla Gregoriana. Qual è la tua comunità? Che esperienza di seminario fa e di comunità soprattutto una persona, come dire, sradicata come sei tu e tanti altri? Sì, ebbene, siamo una comunità di circa 50 alunni provenienti da ogni parte quasi del mondo e sono qui tutti riuniti a Roma per permettere ad ognuno di fare esperienze diverse. c'è una diversità di culti, di riti, tutti che convergono qui a Roma e tutti ci fanno cristiani. Una comunità che vive, sì, di, come dire, le difficoltà del vivere insieme, ma sono quelle esperienze, no? Che stesso Papa Francesco ci ha detto di vivere tutti insieme. già il fatto di poter vivere in grandi classi dove c'è tanta internazionalità e questo arricchisce la nostra cultura per poi procedere dove saremo chiamati un giorno nelle nostre diocesi. Ma tu stai imparando qualcosa sul fare comunità oltre che appunto studiare teologia come stai facendo attraverso questa esperienza? Certo, abbastanza. Infatti l'Almo Collegio Capranica ci permette di esperire in tanti contesti soprattutto legati alla diocesi di Roma, no? Quali il volontariato, quali esperienze pastorali, no? Ecco, questo qua è un altro tema, quello delle esperienze pastorali di cui avete parlato con Papa Francesco perché una delle vostre domande somigliava anche un po' a quella che avevi preparato tu parlava del fatto che sì, noi facciamo gli studenti facendo magari dei corsi di studi impegnativi siamo pure in qualche modo pendolari immagino che non abbiate tagliato completamente i rapporti con le vostre diocesi d'origine ma tu, il prete, il pastore quando lo fai? perché il Papa ha detto che è una cosa importante Eh sì, il Santo Padre ha detto che non si può anche studiare a Roma senza fare esperienze pastorali lui ha parlato di esperienze almeno nel fine settimana nelle parrocchie, nelle comunità di giovani io in particolare mi occupo di studenti universitari sono l'assistente del gruppo FUCI la federazione degli universitari cattolici italiani e mi occupo del gruppo dell'università La Sapienza di Roma e in più il fine settimana vado a dare una mano in una parrocchia con le confessioni o con una presidenza di una celebrazione eucaristica alla parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria quindi riesco effettivamente a mettere le mani in pasta e a non perdere l'odore delle pecore come ci ha detto il Santo Padre Un'altra cosa di cui ha parlato Papa Francesco di cui avete parlato con Papa Francesco della direzione spirituale che lui ha precisato accompagnamento spirituale Dici che cos'è e poi raccontami se è una cosa che appartiene alla tua esperienza Certo, lui è stato molto chiaro preferisce la parola accompagnamento spirituale qualcosa di meno direttivo ha chiesto è obbligatorio come esperienza non è obbligatoria ma serve perché se non hai qualcuno che ti guida a cui tu puoi consegnare le emozioni le rabbie, le difficoltà ecco, questa persona può aiutarti a non cadere perché se cadi, come dice Papa Francesco fai il rumore ecco, è un'esperienza che serve perché non avere una persona che non ti conosce soprattutto in una vita spirituale dedita alla preghiera dedita all'impegno verso gli altri dove tu sei chiamato anche un giorno ecco, può creare un fungo come diceva Francesco una muffa ecco, per cui penso sia necessario il Papa lo ha ribadito e tu fai questa esperienza certo, sì quasi settimanalmente ma è un'esperienza molto varia perché magari c'è chi ha bisogno di più tempo quindi si può fare ecco magari dopo un mese o una volta ogni due mesi ecco, ci sono esperienze diverse anche in questo che è il racconto di quello che stai vivendo del tuo percorso di vita e di fede che non sono separabili esatto infatti lui fa una distinzione importante tra la confessione e l'accompagnamento spirituale certo uno va dal confessore per confessare i peccati e sperimentare la misericordia di Dio ma non basta solo questo perché ecco andare solo dal confessore non ti aiuta a crescere e in quanto noi seminaristi e anche preti in cammino ecco è necessario un aiuto che possa in qualche modo darti gli strumenti aiutarti a leggere quello che ti passa nella vita a proposito di strumenti c'è stata una domanda che avete fatta a Papa Francesco che mi ha colpito molto perché voi strumenti appunto intellettuali e in un certo senso anche direi appunto spirituali nel senso che avete nei collegi dove risiedete immagino una cadenza di preghiera non dico monastica ma comunque insomma degli appuntamenti comuni li avete però avete chiesto a Papa Francesco come si impara a fare gesti come quelli che fa lui che sono i gesti di prossimità di umanità il tema proprio che poi è un tema che riguarda tutti non riguarda solo evidentemente chi è in seminario o è studente fuori sede in un collegio per religiosi della crescita in umanità che penso sia una caratteristica fondamentale per chi ha una vocazione da prete beh il Papa ha risposto innanzitutto dicendo che non c'è un manuale da cui si impara l'empatia non c'è un manuale da cui si legge come fare un gesto di vicinanza a una persona ha detto che i gesti si imparano vivendo si imparano facendo servizio e ha indicato due categorie che aiuterebbero il futuro presbitero il presbitero in formazione permanente il prete che continua a formarsi in tutta la sua vita presbiterale a effettivamente fare dei gesti concreti di vicinanza e queste categorie sono gli anziani e i bambini ha chiesto se siamo in grado come i genitori di giocare con i bambini e ha chiesto se siamo in grado di dare una carezza a un anziano ha detto che un gesto una carezza tenere la mano di un anziano ammalato vale più di tante parole e che questo si impara piano piano dove hai imparato queste cose perché a volte c'è un pregiudizio forse anche fondato in esperienze non sempre positive che il seminario sia un luogo freddo non di crescita tanto umana no il seminario è un luogo esplosivo Giacomo faceva riferimento prima a una comunità dinamica sono tante persone messe insieme che devono condividere tante ore della giornata viene fuori il meglio e il peggio di ciascuno quindi insomma è una vera comunità è vita reale non è un isolamento assolutamente grazie davvero per averci raccontato il vostro incontro con Papa Francesco veniamo ai fatti di oggi oggi è stato presentato il documento che va da il via alla seconda fase del sinodo della chiesa universale e il testo ha un titolo preciso che si chiama allarga lo spazio della tua tenda non l'ha presentato Papa Francesco ma l'ha presentato l'ospite che sta per raggiungerci però il concetto di allargare la tua tenda che è una citazione di Isaia è un concetto che Papa Francesco ha già in passato affrontato ascoltiamo il Papa e poi sentiremo Monsignor Piero Coda emerge dal libro degli atti la natura della chiesa che non è una rocca forte ma una tenda capace di allargare il suo spazio perché entrino tutti e di dare accesso a tutti la chiesa è in uscita o non è chiesa o è in cammino o è allargando sempre perché entrino o non è chiesa è una chiesa con le porte aperte la chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa però adesso vengono i problemi questa novità delle porte aperte a chi? ai pagani perché gli apostoli predicavano i giudei ma sono venuti anche a bussare la porta della chiesa ai pagani questa novità delle porte aperte ai pagani scatena una controversia molto animata l'Assemblea di Gerusalemme ci offre una luce importante sulle modalità con cui affrontare le divergenze e cercare la verità nella carità ci ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello spirito e lo spirito infatti che aiuta a superare le chiusure le tensioni e lavorano ai cuori perché giungano nella verità e nel bene perché giungano alla unità questo testo ci aiuta a comprendere la sinodalità benvenuto Monsignor Piero Coda segretario generale della commissione teologica internazionale e membro della commissione teologica del sinodo e oggi hai presentato proprio questo testo intanto qual è il passaggio che avviene da oggi in questo cammino che abbiamo iniziato verso quello che dobbiamo ancora fare finora c'è stata la prima tappa si è svolta la prima tappa che era quella dell'ascolto del popolo di Dio nelle chiese locali nelle diverse diocesi 112 conferenze episcopali su 114 hanno inviato la raccolta di questo ascolto che era una raccolta partita dalle parrocchie diocesi insomma è un lavoro enorme associazioni eccetera adesso tutto questo materiale che è arrivato prezioso perché riporta la voce del popolo di Dio è stato raccolto è stato si è fatto un discernimento un gruppo di lavoro di 50 persone arrivate da tutto il mondo con la segretaria del sinodo e si è fatto un documento sintesi un report che viene adesso mandato per la seconda tappa cioè viene mandato rimandato le chiese locali perché ogni chiesa locale così può vedere quello che tutta la chiesa ha detto ci può essere uno scambio tra le chiese locali vivrà questo respiro universale sentirà quello che hanno detto le parrocchie le chiese locali di esatto se la tua parrocchia è brava se il tuo parrocchio è bravo e se voi siete un gruppo di laici bravi che lavorate lì e che quindi chiedete di ricevere questo testo e di vedere se vi trovate specchiati in questo testo manca qualcosa o c'è qualcosa di e poi il passaggio successivo il passaggio successivo è quello a livello continentale cioè le diverse diocese le diverse chiese locali raccolgono di nuovo il frutto di questa seconda tappa di recezione di questo documento e lo inviano a ogni conferenza episcopale ogni conferenza episcopale questa volta si ritrova a livello continentale sono sette continenti i continenti sono cinque però per la chiesa diventano sette è come le diocese che non coincidono con le province esatto perché l'America è divisa in due America del Nord e America del Sud sono molto diverse e in più ci sono le chiese orientali cattoliche che costituiscono un continente a sé diciamo così senti voi dicevi avete avuto quantità di materiale enorme non oso immaginare quanto abbiate dovuto leggere avete fatto un grande lavoro di sintesi anche se il documento non è piccolo sono 45 pagine e avete però fatto questa è la cosa più interessante la scelta di dare un titolo è che allarga lo spazio della tua tenda perché avete scelto questo titolo poche parole per sintetizzare una quantità enorme di argomenti ma guarda perché in fondo lo spirito che si coglieva in tutte queste relazioni è anche un po' sorprendente anche un po' entusiasmante c'è un'unitarietà in diversi linguaggi in diverse forme in diverse espressioni però in tutto il mondo lo spirito portava proprio a questo cioè che cos'è la chiesa che cosa siamo noi come chiesa siamo certamente una casa in cui il padre ci ha accolti come peccatori che siamo per insegnarci a diventare figli in quanto fratelli fra di noi e di Gesù come primogenito ma di essere non una roccaforte ma una casa aperta e allora l'immagine della tenda biblica da sempre una tenda che come dire si sposta anche si cammina e si allarga cioè si apre cioè non è una casa chiusa ma una casa ospitale che accoglie tutti un po' quella anche quella immagine dell'ospedale di campo che usa spesso Papa Francesco e quindi sembrata questa immagine che poi è di Isaia e che tra l'altro richiama anche quanto scrive il Vangelo di Giovanni per descrivere l'evento di Gesù l'evento dell'incarnazione il figlio di Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi una tenda allargata una tenda spaziosa in cui tutti siamo chiamati a entrare e che cosa se c'è questa esigenza che viene da Papa Francesco come abbiamo anche sentito adesso ma viene soprattutto dal popolo di Dio perché questo avete ascoltato però evidentemente significa che le porte della Chiesa non sono abbastanza aperte ancora quali sono le porte che secondo te secondo il lavoro che avete fatto ma soprattutto secondo quello che avete ascoltato vanno aperte ma innanzitutto sono le porte aperte verso i membri delle altre Chiese i membri delle altre religioni i membri delle altre convenzioni che in realtà in modi diversi però appartengono alla nostra famiglia la famiglia dell'umanità poi sono le porte di coloro chiuse rispetto a coloro che si sentono esclusi o emarginati esclusi per questioni di povertà sociale di emarginazione sociale di scarto e questo è l'invito del Papa Francesco ad andare sulla frontiera o esclusi per questioni di visione etica o per le situazioni difficili che vivono per esempio situazioni familiari difficili non regolari persone che vivono in modo diverso la loro sessualità da quelli che sono i canoni che vengono riconosciuti dall'etica cattolica e poi direi anche emerso in modo devo dire molto sereno ma molto forte la voce anche delle donne non è che si sentono esclusi sono la maggioranza nella chiesa anche in questo processo sinodale si vede che è così però nei momenti decisionali nel modo di pensare di agire come chiesa come comunità cristiana quanto viene tenuto conto delle donne qual è il loro ruolo ecco quindi sono tante porte da continuare ad aprire per entrare e anche per uscire a incontrare tu fai il teologo quindi pensi Dio e pensi la chiesa da tanti anni c'è qualcosa che ti ha sorpreso di quello che hai letto rispetto a quello che ti aspettavi ma guarda la sorpresa più grossa è stata è stata dal vedere la risposta del popolo di Dio 112 su 114 conferenze episcopali non è mai successo da quando è stato istituito il sinodo dei vescovi questo numero e seconda cosa l'avvio del processo è stato come sempre bisogna superare l'inerzia di quiete quindi c'è un po' di difficoltà un po' di resistenza un po' di scettisismo la solita cosa poi passa si parla tanto poi non si decide niente non si cambia niente eccetera quando poi ci si mette e si vede che la cosa è seria è reale anche il fatto che il Papa adesso l'ha allungato ancora di un anno per dire ascoltiamo bene ma si dice ma come Chiesa qual è la nostra salute cosa dobbiamo fare cosa ci dicono cosa sentiamo come cristiani e quindi come battezzati la Chiesa purtroppo abbiamo ancora questo immaginario anche nei malmidi eccetera sono il clero i vescovi il Papa no la Chiesa è il popolo di Dio siamo tutti noi in quanto battezzati cosa significa questo cosa facciamo lo stupore per me è stato questo tanto che io dico e ne sono sempre più convinto dopo un anno del processo sinodale che questo è l'avvenimento di Chiesa più grosso dal Concilio Vaticano secondo in avanti perché quella profezia di Chiesa quella coscienza profetica della Chiesa destata dal Concilio come diceva Paolo VI direi che qui diventa coscienza di tutti di tutti coloro che vogliono lasciarsi coinvolgere grazie davvero e buon lavoro visto che il cammino è ancora lungo noi ci diamo appuntamento a domani sempre alle 17.30 grazie per essere stati con noi e buona serata grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione